Sì, dai Allora, Attilio Mignasca ha detto esce un massone e ne entra un altro Guarda, la prima reazione che ho avuto è stata veramente di delusione profonda perché non è assolutamente vero e chi mi conosce, chi conosce Lugano, chi conosce queste dinamiche sa che non è assolutamente vero probabilmente Attilio Mignasca doveva cercare qualcosa per attaccare Michele Bertini l'ha trovato, contento lui, contento di tutti ma vabbè, per me finisce qua Allora, la sfida comunque è di quelle che contano di certo non te l'aspettavi? No, è stata una sorpresa la sfida è importante però proprio perché è importante è tremendamente affascinante tremendamente interessante tremendamente formativa e cercherò di fare il mio meglio per essere all'altezza Che di Castero ti piacerebbe avere? Ma adesso è prematuro parlare di di Casteri io sarò a disposizione per qualsiasi ambito di competenza che il municipio mi assegnerà ecco che cosa porti in municipio? Ma ovviamente porterò una visione nuova in quanto giovane, 28enne cercherò di portare me stesso con le mie visioni con i miei approcci, con il mio modo di essere cercando di imparare anche dalla situazione di lavorare sicuramente porterò tanta voglia di fare porterò pochi preconcetti e una buona apertura mentale Rapporti con la Lega che ha la maggioranza relativa? Io sono pronto a lavorare con tutti quelli che mi convincono per cui se la Lega mi convince su un progetto sarò pronto a lavorare con la Lega così come con qualsiasi altro partito